Ciao artisti, questa settimana vogliamo presentarvi la nuova stencil paper marchiata Professional Body Supply. Ricordati di iscriverti al canale YouTube di Professional Body Supply per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità del mondo tattoo. La carta per il trasferimento dello stencil body supply è composta da tre fogli. La velina dove viene tracciato lo stencil, il foglio protettivo da rimuovere prima della tracciatura stencil ed il terzo foglio pigmentato con inchiostro viola. La nostra carta da stencil vi garantirà un ottimo effetto di trasferimento, avrete uno stencil definito, pulito e duraturo. Diversi metodi di utilizzo potrete utilizzarla con le termocopiatrici, con le stampanti termiche ed anche per il ricalco a mano. Materiale di alta qualità in formato A4. Tutti i fogli sono resistenti e performanti per tutti i diversi metodi di utilizzo e sono nel classico formato 21,5 x 29 cm. Possibilità di scelta tra il box da 100 pezzi o il mini pack da 10 fogli. Utilizzarla è semplicissimo, basta rimuovere il foglio protettivo e procedere con il proprio metodo di creazione stencil. Per acquistare la nuova stencil paper macchiata Professional Body Supply basta andare su bodysupply.com o cliccare il link in descrizione. Se hai ancora delle domande su questo prodotto o vuoi dirci cosa ne pensi, scrivilo qui in basso nei commenti. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao artisti!